ciao a tutti sono nicola e che i baracchinghi e oggi parleremo di come categorizzare i nostri avversari al tavolo chiaramente per far questo una volta fatta l'analisi necessaria sarà necessario usare delle label cioè applicare dei colori o a hold the manager o poker tracker oppure direttamente in game laddove questo sia possibile attraverso i colori che la room ci fornisce c'è da fare una piccola differenziazione però perché in quelle room in cui è possibile fare una cosa del genere allora diventa anche possibile utilizzare due colori diversi il primo che personalmente ma questo chiaramente è soltanto una scelta una scelta personale attribuisco il pre flop alle label del del tracker quindi poker tracker oppure hold the manager mentre quello della room per il comportamento post flop laddove questo non sia possibile dovremo utilizzare un solo colore per dare le informazioni più accurate possibili ora c'è da capire una cosa che se utilizziamo semplicemente le idee che vengono utilizzate vari anni fa corriamo il rischio di non avere una differenziazione abbastanza adeguata perché perché se distinguiamo soltanto tra fish tag cioè tight aggressive il solito giocatore che un po ovunque viene consigliato come il nostro punto di arrivo no c'è un giocatore abbastanza tight pre flop e poi aggressivo post flop e oltre a questo poi il lag cioè il loose aggressive c'è un giocatore che gioca tante mani pre flop è molto aggressivo pre flop e lo è anche adeguatamente post flop bene se utilizziamo soltanto queste categorizzazioni andiamo poco lontano perché questo perché tante delle statistiche che andiamo poi a vedere possono essere in qualche modo fuorvianti prima vi do le idee di base poi vi faccio capire però come abbiamo bisogno di andare a vedere cose un pochino più accurate prendiamo il primo esempio quello che io utilizzo con l'abel viola cioè il giocatore aggressivo cosa significa aggressivo significa più aggressivo di quello che in teoria dovrebbe essere ora questo avversario chiaramente voi non conoscete tutte le statistiche vi dico io quali sono quelle importanti ci passerò sopra con il mouse allora questo avversario ha un vp ip cioè percentuale di volte in cui decide di entrare in gioco volontariamente del 41 un pfr cioè un pre flop raise la percentuale di volte in cui decide di entrare in gioco raisando piuttosto che callando o limpando ovviamente del 31 un atribet dell'11 che non è nemmeno esageratamente alta e soltanto con queste tre statistiche possiamo dire che questo è un giocatore aggressivo pre flop andiamo un po più nel dettaglio vediamo dove questo è vero perché potrebbe essere appunto fuorviante questo avversario in realtà apre tantissimo l'88 da button 78 da small blind dalle altre posizioni è sia abbastanza aggressivo ma non in modo così esagerato a questo punto entra però l'altra condizione cioè come gioca questo avversario post flop ecco come vedete in questo caso non avendo il colore della room non possiamo capire niente a colpo d'occhio dobbiamo andare a guardare le statistiche e allora qui vediamo che questo avversario ci bet tantissimo il flop 88% in posizione 85% fuori posizione però poi turn e river è estremamente passivo tanto che al river come bet ha soltanto il 15% se poi vediamo come si comporta tutte le volte che cecca vediamo che quando cecca flop folda il 57 quando cecca turn folda il 60 river il 50 e anche intribettato quando cecca flop folda poi il 57 da aggressor e il 75 al turn questo già ci fa capire che questo avversario è sì un avversario aggressivo ma lo è soltanto pre flop e al flop una volta che riceve azione aggressiva o passiva dal suo avversario quindi un raise o un call smette di essere aggressivo come pensavamo e anzi diventa un bank mat per così dire questo è un avversario contro cui andare a foldare qualunque mano bvb per esempio contro button non ha veramente alcun senso così come non ha nessun senso andare a giocare soltanto la nostra equity al flop sapendo che questo avversario una volta che betta flop poi non continua mai e folda river il 63% delle volte quindi già abbiamo inquadrato il giocatore in questione cosa fare se possiamo utilizzare un solo colore? beh chiaramente il mio consiglio è andare a cercare un colore intermedio o anche completamente diverso questo è a gusto vostro che possa andare a indicare esattamente questa cosa qua ripeto in game avendo la label viola per il pre flop e una label che vedremo dopo verde per il post flop e fa capire come posso giocare contro contro questo avversario ora è vero che se noi non sappiamo quali sono valori buoni per così dire non possiamo dire se questo avversario è più aggressivo oppure meno aggressivo del normale quello però purtroppo è un discorso che non possiamo affrontare adesso è chiaro che andando a vedere la media dei giocatori vincenti ci possiamo già fare un'idea se non abbiamo mai studiato la teoria ok ora per farvi un esempio ancora più chiaro andiamo al giocatore passivo quello che tipicamente viene definito fish però non soltanto i fish sono passivi come detto prima ci sono anche red aggressivi pre flop magari troppo aggressivi o anche con statistiche molto molto buone che però poi post flop non dico che muoiono però ci vanno vicini qui vi ho preso proprio un esempio lampante un giocatore che ha un vpip del 29 un pfr del 7 e una tribet dell'1 voi dite eh ma sono 3000 mani non sono tantissime è vero non sono infinite però l'un per cento comunque nonostante 3000 mani è estremamente indicativo questo è un giocatore che tutti vorremmo avere al tavolo no? è un giocatore che non apre mai quindi quando apre sappiamo esattamente cosa giocare e come giocare sappiamo che ci betta 43, 73 e 25 nelle tre street quando è in posizione quindi anche qui sappiamo esattamente cosa va a giocare cioè ne farà due con tutto ciò che ritiene essere di valore o draw molto forti river continua soltanto con il top del suo range dall'altro punto di vista quando siamo noi aggressor quindi quando questo avversario difende vediamo che folda il 56% alle continuation bet al flop e poi non folda più è quel giocatore tipico che una volta cercavamo in tutti i tavoli che adesso sono chiaramente giocatori di questo tipo sono molto più rari però esistono ancora contro cui giocheremo con tutta la nostra air in one and done cioè faremo una bet al flop per poi arrenderci nelle street successive quindi un giocatore del genere è passivo sia preflop sia postflop perché dico che lo è anche preflop? perché non è soltanto nitty cioè gioca soltanto la parte forte ma ha un gap quindi una differenza tra il vp ip e il pfr estremamente pronunciata quindi è un giocatore che tenderà ad aprire poco è vero ma a giocare in call la maggior parte delle sue mani siano esse limp siano esse call direttamente un'altra cosa che notiamo è che questo avversario quando limpa poi folda il 48% delle volte quindi è un giocatore che andrò a isolare soprattutto quando sono da big blind e quindi quando non c'è nessun altro dopo di me che mi può call tribettare dicevo andrò a isolare con un range larghissimo se non con il 100% delle mie mani perché questo? perché il 48% delle volte mi folderà preflop quando poi chiama se questo dato rimane veritiero questo riguarda big blind chiaramente guardiamo quello generale siamo al 59 quindi diciamo la tendenza non cambia 59, 33, 36 flop turn e river quindi andremo a isolare con la maggior parte delle nostre mani per poi ci bettare il flop e arrenderci nelle state successive una cosa importante ma di questo ne parleremo nel prossimo video è andare a cercare la size più grande che questo avversario è disposto a chiamare perché dico questo? perché a noi conviene più che chiami preflop e poi foldi al flop piuttosto che foldi direttamente preflop è vero che facciamo soldi comunque se folda pre non ci dispiace però se chiama ad esempio 5 BB, 6 BB, 7, 8, 9 BB per poi foldare il 56% delle volte considerando anche il fatto che molto spesso avremo equiti quindi a noi va benissimo che ci chiami preflop ripeto soprattutto da big blind questo è un giocatore da isolare fino alla morte ora voi potete dirmi certo però ci hai fatto vedere due esempi estremamente facili un giocatore estremamente aggressivo che poi smette di esistere turn e river e un giocatore estremamente passivo contro cui tutti sappiamo giocare verissimo andiamo avanti quindi velocissimamente vediamo il nitti perché dico questo? perché in tanti seleziono il nitti a seconda di quello che apre o non apre preflop a me questo in realtà interessa veramente poco perché? perché ci sono tanti fish che aprono poco preflop ok? ci sono tanti reg anche decenti che aprono poco preflop o magari che tribetano poco questa però non è un'informazione vitale ok? nel senso che non è la prima cosa che deve saltarmi all'occhio le statistiche le avremo comunque anche su di loro no? quello che mi interessa qui è capire quanto questo avversario folda dai blinds soprattutto in bvb perché? perché come sapete se facciamo l'esempio di aprire a 3 big blind da small blind ok? in bvb se il mio avversario folda più del 62,5% delle volte io faccio profitto aprendo ATC cioè letteralmente tutte le mani ok? ora questa è un'informazione che che mi permette di velocizzare il gioco perché se il mio avversario è segnato con un colore esattamente per questa cosa qua ogni volta che sono da small blind non devo andare a riguardare le statistiche mi basta cliccare sul tasto del raise quindi dell'apertura sapendo di far profitto quindi io come prima cosa segno nitti chi in bvb come in questo caso mi folda più del 62,5% per chi apre invece 2,5% quel valore dovrebbe essere ora non ricordo benissimo dovrebbe essere 57% è un po' fuorviante perché la maggior parte degli avversari aprono per 3% quindi queste statistiche sono diciamo tarate su quel valore comunque è chiaro che se un avversario folda come in questo caso il 70% è probabile che foldi troppo anche contro apertura 2,5% quindi quelle sono cose che poi uno può andare a vedere per conto proprio quindi questa è la prima cosa che mi fa decidere per il nitti ok? e quindi è un giocatore che vorrò sempre la mia sinistra perché? perché sono small blind e quindi poi big blind del mio avversario gratis ok? ce ne sono tante altre di cose che un avversario nitti fa e che sono fondamentali però non riguardano soltanto l'essere nitti perché molto spesso ricadono nella categoria del passive se sono veramente veramente scarsi oppure dell'over aggressive se sono dei nitti che hanno capito che possono giocare il loro range come se fosse sempre nato perché in realtà in percentuale questo è abbastanza vero detto questo andiamo avanti sul nitti non voglio perdere veramente alcun tempo passiamo al reg exploitable cosa vuol dire? è un reg che ha dei leak quindi commette degli errori che noi riconosciamo e che possiamo sfruttare perché gli do un colore a parte? perché questo avversario ad esempio ha delle statistiche preflop che si avvicinano molto a quelle corrette anzi, viene da pensare vedendone alcune che probabilmente questo avversario abbia anche dei range accurati e così via ha anche statistiche postflop che hanno su per giù un senso ha un'aggressione sulle varie street abbastanza uniforme che anzi va a salire arrivando al river il che non è assolutamente sbagliato ha un check race del 10 che non è elevatissimo però comunque un po' c'è eccetera 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 ok? però ha poi delle caratteristiche evidenti che ci permettono di giocare postflop contro di lui diciamo non senza guardare le carte ma quasi vi faccio capire quali sono la più importante questo avversario una volta che chiama da big blind folda il 49% alle continuation bet al flop il 48% al turn e poi non folda più il river questo cosa mi fa capire 49 e 48% sono size e sono scusate frequenze di fold che sono veramente esagerate soprattutto per un reg ok? quindi questo avversario continua con un range troppo troppo forte è passibile di continuation bet con tutto il nostro range non ci mette in difficoltà tra l'altro quando ci resa non lo fa nemmeno così spesso da farci overtinkare da farci chiamare che ne so tier pair con un overcard perché dobbiamo difendere il nostro range eccetera 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 non ce ne frega niente folda troppo non resa abbastanza e anche quando chiama flop continua a foldare turn river tra l'altro noi possiamo benissimo non bleffare mai ma usare size anche molto molto grosse una volta che abbiamo valore questa è la prima cosa che vedo l'altra cosa che vedo è che una volta che il flop va di check check e il nostro avversario si trova al turn check di nuovo oppure è in posizione su di noi alla nostra delayed cioè una continuation bet fatta non al flop ma ritardata al turn bene questo avversario folda il 70 70 è un valore allucinante quindi noi potremmo andarlo a fare praticamente con tutto il nostro range tranne le cose che cerchiamo di portare allo showdown al tempo stesso quando è lui l'aggressor quindi quando lui ha aperto e decide di non ci bettare il flop e come vedete lo fa molto spesso perché ci betta soltanto il 54 poi folda il 66% delle volte ok quando non ci betta il turn il 61% e quando non ci betta il river il 57% sono tutti valori altissimi ok che da un reg uno non si aspetterebbe non da un reg con statistiche per flop che hanno che hanno un senso quindi segnare questo reg soltanto come reg ci impedisce di andare a giocare magari un range più largo in modo da appunto esploitare queste tendenze e sono solo alcune ce ne sono altre ad esempio questo avversario una volta che ci troviamo intribettato folda 36 al flop e poi però folda soltanto 26 e 25 al turn non folda mai più ok quindi sappiamo che possiamo andare a team value bettare per dire così cioè andare a bettare turn e river un range di valore che contro tantissimi altri avversari magari non sarebbe abbastanza forte per prendere tre street contro questo avversario invece probabilmente sì quindi questa già è un'altra cosa che possiamo vedere e ce ne sono altre beh sì ce ne sono ce ne sono altre come abbiamo visto il discorso della delayed vediamo che contro la probe quindi quando il flop va di check check il nostro avversario è da big blind e il nostro avversario scusate è in posizione una volta che noi decidiamo di puntare il turn quindi facciamo quella che si chiama probe bettare il nostro avversario folda 53 se chiama il turn folda 50 al river entrambi valori troppo alti river potrebbe anche quasi andare bene al turn è sicuramente altissimo quindi da un punto di vista questo sì è un reg però è anche anche diciamo delle tendenze che gli impediscono se sfruttate di fare di fare veramente profitto e certe volte queste tendenze per noi sono anche meglio di quelle di un fish perché perché se un fish non folda mai per esempio dobbiamo aspettare la mano buona per prenderle tutte quanto questo avversario invece noi continueremo a prenderle poche alla volta ma di continuo perché con valori così alti diventa veramente difficile per lui andare a difendere ok cioè un avversario che folda il 66 su comunque tanti casi una volta che cerca il flop e si trova fuori posizione è improbabile che vada a giustare esattamente contro di noi perché evidentemente è un leak che viene sfruttato un po' da chiunque abbia un add e dovrebbe già essere stato portato diciamo a fixare questa parte del suo gioco e anche se fosse una cosa singola vediamo che in tutte le situazioni in cui questo avversario può foldare mettiamola così overfolda quindi è un tipo di avversario che noi vogliamo veramente sempre al nostro tavolo ma mentre il nitti lo vogliamo alla nostra sinistra ok questo avversario specifico lo preferiamo alla nostra destra non che a sinistra ci faccia schifo anzi soprattutto quando lui è da big blind e noi da button quindi quando c'è una posizione tra noi e lui però anche quando lui è in posizione possiamo giocare contro le sue aperture da button e da cutoff in modo molto 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 facile ok il che vuol dire che questo avversario non ci mettando tantissimo ci farà realizzare la nostra equity molto più spesso il che vuol dire che quando chiamiamo money che sono second pay third pay draw di qualche tipo sappiamo che le volte tutte le volte che non betta il flop oppure non betta il turn possiamo vincere il piatto uncontested anche con quello che esce da un value molto basso oppure un semplice draw ok e andando ancora più nel dettaglio ci sono altre ci sono altre cose chiaramente qual è il discorso il discorso è che per definire un reg esploitabile è necessario disporre di tante mani perché perché se un reg ha mille mani e qui vediamo 49 non vuol dire niente magari quel 49 è su o facciamo un 50 ok magari è 50 su 10 casi è venuto fuori che tutte le volte lui aveva 7-5 suited da big blind e il board veniva asso k donna con tutte le carte non del suo colore e succede quindi pochi casi ci impediscono di dare definizioni così certe quando però tutte le situazioni si vanno a incastrare e escono fuori dei pattern cioè delle situazioni ricorrenti che vediamo da più parti allora dovrebbe accendersi una lampadina e dovremmo iniziare a assegnarci questa cosa se non lo facciamo se lasciamo questo avversario senza una labbra oppure gli diamo quella di reg normale tutte le volte siamo costretti ad andare a vedere se c'è qualcosa che possiamo sfruttare perdiamo tempo magari concentrazione su altre mani ricordatevi che la maggior parte di quello che facciamo deve essere automatizzato in qualche modo perché nessuno può giocare 4, 5, 6, 7, 8 ore al giorno su 4, 6, 8 tavoli e essere concentrato al 100% su ogni mano il cervello non ce la fa andate tranquilli quindi dobbiamo trovare sempre delle scorciatoie e queste sono scorciatoie estremamente utili ora se noi prendiamo come in questo caso un reg che ha statistiche preflop buone niente di eccezionale ma comunque buone postflop intravediamo dei dei leak ad esempio vediamo che questo avversario fa la continuation bet al river soltanto il 25% delle volte vediamo che turnfall del 52 però se poi andiamo a vedere quanti casi sono quello che vi dicevo poco fa infatti ci rendiamo conto che non sono valori diciamo attendibili è vero che ce ne sono altri che ci possono confermare alcune tendenze il fold verso smith dal turn al river per esempio il fold alla probe turn e poi alla continuation probe al river cose di questo tipo ci danno un po' l'idea quindi è chiaro che le statistiche le andiamo a vedere sempre e comunque però ancora non possiamo dire che queste tendenze siano diciamo radicate in questo giocatore perché se poi andiamo a vedere altre statistiche ad esempio il fold della continuation bet intribettato ci rendiamo conto con questo 40 43 40 che i valori sono comunque abbastanza buoni quindi diciamo è nel nostro mirino non possiamo definirlo né un fish né un reg estremamente exploitabile però teniamo in mente teniamo in mente questa cosa ora potete dirmi ma se vai giù non ci sono più label cioè non hai messo una label per i reg veramente 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 bravi c'è una label per quei giocatori che io metto che è la label rossa ma sono così pochi e a livelli comunque alti che alla maggior parte di voi non servono assolutamente perché perché la maggior parte di noi il 99,9% di noi rientra in realtà in queste categorie cioè ha dei leak che sono sfruttabili in qualche modo oppure semplicemente non avete ancora abbastanza mani per capire quali siano quei leak ok un'altra cosa da tenere presente è che certe volte un reg bravo dalle statistiche può presentare dei leak che in realtà non lo sono effettivamente perché perché magari ha tendenze esagerate per alcune linee ma quelle tendenze sono esagerate perché il field gli permette di farlo esempio prendiamo un field in cui tutti i giocatori o la maggior parte dei giocatori folda troppo quando chiama da big blind ok allora vedremo quel reg che ha una continuation bet in posizione dell'80 85 88 90 95 per cento e a vederla uno potrebbe pensare beh questo è un leak in realtà no lo è soltanto diciamo in assoluto ma inserito nel field non lo è più o ad esempio vedete un reg che che quando cecca al flop e contro big blind e si ritrova a fronteggiare una probe folda più di quello che l'ottimale vorrebbe è un leak dipende se il field non gioca in probe abbastanza il nostro giocatore è invogliato chiaramente a foldare di più quindi dobbiamo fare attenzione quando i valori si discostano diciamo per pochi punti percentuali da quelli da quelli che sappiamo essere validi chiaro che detto questo se un avversario torniamo qua per esempio folda 70 alle delayed continuation bet c'è un problema in assoluto non dipende dal field non dipende dal fatto che il field delia troppo poco non dipende da niente dipende dal fatto soltanto che questo giocatore non ha studiato abbastanza quel tipo di spot oppure che non stabba abbastanza le cose sbagliate al turn ok oppure al flop e quindi si ritrova poi al turn a dover foldare troppo questo non possiamo dirlo in questo momento ma sappiamo che quando i valori sono estremamente lontani dall'ottimale o dall'opzione ottimale chiamatelo come volete allora ci sono dei problemi e delle cose da delle cose da fixare di tutti questi quali sono le label che uso più spesso in realtà allora quella che uso meno spesso è quella del nitti perché i nitti stanno sparendo nel senso che la maggior parte dei reg ha trovato delle chart in giro che gli danno dei range di apertura oppure ha trovato sempre chart che gli dicono cosa difendere in bvb ad esempio oppure sono reg che erano nitti una volta ma che negli anni hanno capito che devono iniziare a difendere il big blind altrimenti i soldi non li faranno mai eccetera 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 quindi nitti totali ce ne sono ancora ma non ce ne sono tantissimi questa è la label che uso più spesso per quanto riguarda i reg perché ogni volta che ho un bel po' di mani su un avversario vengono fuori delle tendenze che possono essere sfruttate questo non vuol dire che l'avversario reg è un fish o da denigrare eccetera eccetera no è un avversario che semplicemente ha dei punti specifici che dobbiamo andare a controllare che dobbiamo cercare di sfruttare non sempre funziona non sempre ci riesce eccetera eccetera però dobbiamo farci attenzione e questo succede continuamente tanto che la label arancione la metto soltanto diciamo per le prime mani e la cambio non appena noto qualcosa di fondato ok nella maggior parte dei casi molto prima di 5000 mani questa label viene cambiata e quindi la maggior parte degli avversari sarà di questo tipo ma intendiamoci anche io agli occhi dei miei avversari se usassero diciamo la mia categorizzazione rientrerei sicuramente in questa cosa qua sia perché ho dei leak che mi porto dietro sicuramente a prescindere sia per dei leak diciamo che dipendono da esagerazioni di alcune linee date dal field quindi questa è sicuramente una delle più usate l'altra che uso tantissimo chiaramente è quella passiva una cosa che succede spessissimo è avere queste due label insieme quindi un aggressivo preflop che è molto passivo postflop non capita quasi mai il contrario ad essere sincero cioè un passivo pre che poi impazzisce post mentre di nuovo questa label verde va molto spesso insieme sia a quella del nitti sia a quella del reg exploitabile ok perché perché quando mi rendo conto che c'è un avversario con statistiche buone ma a valori ancora più accentuati ad esempio qui ha un 55 checkraise del 5 quello per me è un avversario passivo nonostante il fatto che preflop abbia statistiche statistiche normali perché gli lascio comunque la label blu preflop perché mettere quell'arancione come detto prima per dire questo è un reg normale però poi ha del leak post flop non mi serve assolutamente a niente queste due insiemi fanno capire che il reg ha del leak ma che non è un fish come un giocatore verde e verde ok e che possa andare a a exploitarlo in qualche modo quindi ogni volta che noi andiamo a categorizzare un avversario per concludere dobbiamo fare attenzione non soltanto ai numerini vpp pfr e tribet che sono i primi che ci saltano agli occhi e che tutti hanno nell'add ma anche a diciamo il modo in cui si incastrano tutte le altre statistiche che ci permettono così di avere direttamente un plan in testa che possiamo utilizzare e utilizzare continuamente ripeto davvero per concludere noi vogliamo giocare la maggior parte delle nostre mani non dico in automatico al 100% però vogliamo minimizzare gli spot in cui le nostre energie mentali debbano essere spese vogliamo essere sempre freschi per tutte quelle situazioni che sono veramente complicate e che richiedono tutta la nostra attenzione detto questo per questa volta è tutto io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao